Upsa, tutti, 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 miei cari Upsi e Upsine, come state? Come, 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 come state? Sperate, aiuto, spero bene dai, spero veramente, veramente bene dai, oggi sono qui per cercare di rinfrescarvi un po', perché va caldo, non c'è niente da dire, va caldo, quindi so che magari questo video sarebbe dovuto uscire un po' prima, ma sono riuscito solo adesso, però ci sono riuscito lo stesso, basta parlare che oggi non so parlare, vabbè, indossate subito un paio di cuffie auricolari, stendetevi sul vostro letto e cercate di chiudere gli occhi dai, perché oggi sono qui per farvi addormentare, cercando anche di rinfrescarvi un po', quindi, come, come primo trigger ho qui, questo ventaglio, essendo un oggetto molto grande devo fare attenzione, un po' di qua, questo ventaglio qui per fare, un po' di, un po' di, tipo scratching, un po' di tappi, ma soprattutto per cercare di soffiare via tutto il calore, per farti un po' di aria, così, 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 da una parte, e adesso lo faccio anche dall'altra parte, farti insomma un po' di vento, un po' di vento, un po' di vento, un po' di vento, perché devo riuscire a farti un po' di vento, un po' di vento, aspetta, un po' di vento, provo adesso un po' con le mani, faccio un po' così, un po' di vento, un po' di vento, un po' di vento, un po' di vento, rilassati, 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 rilassati. Adoro il suono che fa quando lo apri, di vento, non è populace, bene. aspetta, è rifatto,一 ovvero un po' di aria, 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 lo posso anche un po' difficile da gestire, adesso una cosa che mi piace tantissimo, quindi focalizzati su uno di questi due ghiaccini, il destro o il sinistro, scegli tu quale seguire. E questi sono ghiaccini freddi che appunto possiamo usare qua per rinfrescarti un po', va bene? Tu scegli quale seguire e guarda il movimento che fa, guarda il movimento che fa. Ok, adesso solo il sinistro guarda il movimento che fa. Solo il destro. Di nuovo insieme, guarda il movimento che fa. Continua a guardare quello che hai scelto. Ok, dai. Li riappoggiavo qua. Ci sei ancora? O stai già dormendo? Ci sei ancora? Ci sei ancora? Ci sei ancora? Adesso sto prendendo la tua attenzione, richiamo un po' la tua attenzione per questo primo trigger con l'acqua perché ce ne sarà poi un altro. Abbiamo uno spray, uno semplice spray con dentro dell'acqua. E a parte il suono dell'acqua che secondo me rinfresca un sacco fa pensare proprio all'estate, al mare. Volevo prenderlo per fare... Scusa, aspettate che tolgo un pari delle comandi che ho in giro che non si dovrebbero bagnare. Ecco, spruzziamo un po', spruzziamo un po', spruzziamo un po' di là. Anche perché non è che ho messo tanta acqua qua dentro. E' un trigger che mi piace tantissimo, questo dello spray, lo spruzzino insomma. Ok, adesso fatemi controllare una cosa. Ok, allora se volete sapere che ho risolto, sono le 2.50, spero si veda. Oggi mi sono messo a registrare un po' prima. Allora ritorno un attimino a fare il vento con le mani. A fare il vento con le mani. A fare il vento con le mani. Perché adesso abbiamo un ultimo trigger. Poi magari dopo riprendo i ghiaccini se ho un po' di tempo. Che è uno che non faccio mai se non tipo in questo genere di video. Ovvero dove cerco di rinfrescarti. e un altro trigger con l'acqua. Ho qui questa ciotolina d'acqua e faccio... Spero riusciate a vedere qualcosa. Devo comunque stare attento qua a non diventare sfogato. Ascoltate il suono delle goccioline d'acqua. Io l'adoro. Sì tipo, l'adoro veramente un sacco. Fatemi sapere se piace anche a voi come suono. Perché potrei anche riportarlo non per forza in estate in questo genere di video. Ecco. Però lo posso perché voglio riprendere un attimino i ghiaccioli. E fare ancora un po' di massaggio sul tuo viso. che poi se notate li ho scelti del colore azzurro come lo sfondo. Che è anche un colore molto 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 freddo. che quindi magari ti può far sentire meno caldo. che è più caldo... che è più caldo... che è più caldo. ... così... che è più caldo... Ok dai Penso si stia avvicinando il momento per salutarci Quindi per farti andare a dormire Quindi Cucù Cucù Ora tocca a te Tocca solo 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 a te Iscriviti al canale se sei nuovo Se non l'hai ancora fatto Per entrare a far parte della Ops Family Questa community Che c'è qua su Youtube E diventare un opsino Se sei un moschietto Altrimenti un opsina Se sei una femminiccia Poi Importantissimo Lascia un bel like Se il video ti è piaciuto Così che possa supportarmi Possa essere spinto un po' di più sulla piattaforma Youtube Ma cosa importantissima Commenta, 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 commenta Se il video ti è piaciuto Se il video ti è piaciuto Quale trigger ti è piaciuto di più magari Il video di oggi Purtroppo 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 Finisce qua Ma se tu 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 Vuoi restare ancora insieme a me E rinfrescarti E non rinfrescarti Se vuoi rilassarti ancora un po' Io ti lascio Di qua Il mio video precedente Di qua Una mia playlist E qua in basso Il tasto per andare sul mio canale E vedere Tutti i video che vuoi Tutti i video che vuoi Quindi niente Adesso devo mandarti Un grande grande bacio Così che tu possa chiudere gli occhi E dormire Quindi Buonanotte 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 Buonanotte